vediamo ora come utilizzare lo strumento timbro di zona o meglio come effettuare una personalizzazione che ci potrà essere utile lo strumento timbro di zona è il penultimo pulsantino della barra del design che cos'è un timbro di zona il timbro di zona è praticamente una serie di scritte chiamate così metaforicamente timbro che possiamo inserire in automatico all'interno di ogni ambiente contenente delle informazioni nel nostro caso metteremo delle informazioni che saranno il numero dell'ambiente la destinazione quindi il nome dell'ambiente la superficie totale e la superficie finestrata cioè gli elementi che servono a noi per il nostro lavoro di analisi i timbri quando vengono inseriti sono associati a delle categorie di zone la categoria di zona è visibile attraverso un colore di fondo che ogni ambiente avrà quindi ogni timbro di zona che metteremo sull'ambiente avrà un colore di fondo che rappresenta la categoria della zona di appartenenza ora in archicad ci sono delle categorie già predefinite nei vari file a noi interesserà adesso predisporre due categorie che chiameremo una zona giorno e una zona notte in modo che poi quando andremo inserire il timbro sceglieremo a quale delle due il nostro ambiente appartiene in modo da avere alla fine anche una così una visione insieme dell'appartenenza delle varie dei vari ambienti alle zone zona giorno zona notte allora per poter fare questa operazione è abbastanza semplice bisogna andare sul menu opzioni attributi elemento categorie zone questa finestra abbastanza semplice vediamo che c'è nella parte in alto cliccando le zone esistenti a noi interessa appunto creare queste due nuove zone che sono zona giorno e zona notte allora clicchiamo sul pulsante nuovo e scriviamo zona giorno e una volta inserita la zona possiamo personalizzare il colore quindi clicchiamo sul colore della categoria della zona e andiamo a scegliere un colore adesso possiamo scegliere qualsiasi colore però è bene scegliere dei colori diciamo così abbastanza tenue infatti io sono nella categoria dei colori pastello diciamo così e colori tenui per tanto per non appesantire troppo il disegno e poi anche per far risaltare poi le scritte del timbro che ci saranno sopra quindi qui in questo caso posso per esempio prendere un colore abbastanza tenue ecco per esempio questo colore qui ok bene adesso creiamo la zona notte sempre opzioni attributi elementi categorie zone vedete che adesso comparirà già la zona giorno andiamo a creare la zona notte nuovo scriviamo zona notte e andiamo come abbiamo fatto prima personalizzare il colore scegliamo sempre un colore tenue magari un colore è un'altra tonalità in modo da poter vedere bene le differenze per esempio questo colore qui ok questo modo noi abbiamo diciamo così preparato due zone zona giorno e zona notte che andremo ad associare e nei vari timbri di zona che metteremo secondo le nostre esigenze